Cantico spirituale di San Giovanni della Croce Sarebbe anzi da ignoranti credere che in qualche modo si possono spiegare bene a parole i detti d'amore nell'intelligenza mistica, quali sono quelli delle strofe presenti, perché lo Spirito del Signore che dimorando in noi aiuta la nostra fiacchezza, chiede per noi con gemiti ineffabili quanto noi non possiamo intendere e comprendere bene per manifestarlo. In vero chi potrà descrivere ciò che egli fa capire alle anime innamorate dove dimora? E chi ha parole sufficienti per esprimere ciò che fa loro sentire o desiderare? Certamente nessuno lo può, neppure quelle stesse persone in cui ciò accade. Questa è la causa per cui piuttosto che spiegarlo con ragioni, esse preferiscono far comprendere parte di quel che sentono servendosi di figure, comparazioni e similitudini. E dall'abbondanza dello Spirito spargono segreti misteri. Queste similitudini sembrano spropositi piuttosto che detti ispirati dalla ragione, se non si leggono con la semplicità di spirito e di intelligenza che contengono, secondo quanto possiamo osservare nel Divino Cantico di Salomone e in altri libri della Sacra Scrittura, dove lo Spirito Santo, non potendo farci intendere l'abbondanza del suo senso con termini volgari e usuali, rivela i misteri usando figure e immagini strane. Perciò, ne segue che i santi dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole è stato detto, e quindi ciò che se ne dice ordinariamente è il meno che in sé racchiude. 2. Essendo dunque queste strofe state composte in amore di abbondante intelligenza mistica, non si potranno spiegare con esattezza né quanto sarà il mio intento, ma solo quello di dare qualche lume generale, come vostra reverenza mi ha chiesto. Credo che ciò sia meglio, poiché è preferibile spiegare i detti d'amore nella loro ampienza, anche che ciascuno ne approfitti a modo suo e a misura del suo spirito, piuttosto che restringerli in un senso a cui non si accomoda ogni palato. Perciò, quantunque vengono spiegati in una maniera, non vi è bisogno di attaccarsi a tale spiegazione, giacché non è necessario capire distintamente la sapienza mistica che per amore e di cui trattano le seguenti strofe per produrre effetti ed affetti d'amore nell'anima, essendo conforme alla fede mediante la quale serviamo Dio senza comprenderlo. 3. Pertanto sarò molto breve, anche se non potrò fare a meno di diungarmi in alcune parti, dove l'argomento lo richiederà e dove si offrirà l'occasione di trattare e spiegare alcuni punti ed effetti dell'orazione dei quali non potrò esimermi di parlare, perché nelle strofe ne sono accennati molti. Ma lasciando da parte il più comune, tratterò brevemente dei più straordinari, che avvengono a coloro i quali, con il favore di Dio, sono usciti dallo stato dei principianti. E ciò per due ragioni. La prima perché per i principianti già si sono scritte molte cose. La seconda perché parlo per suo incarico di ciò che, con vostra reverenza, a cui nostro Signore ha fatto la grazia di trarre fuori da questi principi ed introdurla più addentro nel senso del suo amore divino. Perciò, quantunque si tocchino qui alcuni punti di teologia scolastica, circa il tratto interiore dell'anima con il suo Dio, spero che non sarà inutile averne parlato alquanto in tal maniera nell'intimo dello spirito. Infatti, se è vero che a vostra reverenza manca la pratica della teologia scolastica, mediante la quale si intendono le verità divine, non le manca quella della mistica, che si conosce per amore, nel quale le cose non solo si conoscono, ma insieme si gustano. 4. Affinché ciò che dirò abbia più fede, voglio sottometterlo totalmente al migliore giudizio della Santa Madre Chiesa, non penso di affermare di mia autorità fidandomi dell'esperienza mia né di quella di altre persone spirituali che ho conosciuto, anche se intendo di potermi giovare e dell'una e dell'altra, se non confermato e chiarito dai testi della Sacra Scrittura, almeno per le cose che parranno più difficili a capirsi. Nel presente lavoro seguirò questo metodo. Prima riferirò le citazioni e poi le spiegherò subito a proposito di ciò per cui le avrò riportate. Riferirò prima le strofe tutte insieme e poi ciascuna per ordine per spiegarle, anzi spiegherò ogni verso di esse ponendolo al principio del suo commento. Grazie. Grazie. Grazie.